Lui è fragolino e iniziamo col taglio un bie Voila! Ed ecco qui la sannatura con la sannatura Siamo già a buon punto e questa è una gran parte che abbiamo tolto a sto ragazzone che non si fa spazzolare dalla proprietaria Perché è un po' un furbacchietto, vero? Vero? Rispondi un po', non rispondi? Non rispondi? Niente Gli piace, qua gli piace, possiamo dire che qua gli piace Voila, sempre col nostro pettine, lo ve li per tutti Risolviamo tutti i problemi, vero? Ah, risponde adesso, risponde ragazzo Rispondi a me o al cane, non capisco In chi si è arrabbiato con me o al cane? Non lo so Ecco qui il fragolino pronto per andare a casa Ma io tu ancora non vai a casa Nella sua batcaverna E questo è il nodo E il sottopelo che ovviamente lasceremo qui Grazie 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 a tutti